Salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video della serie oggi ecco comincia allora oggi siamo cominciamo bene ragazzi allora come vedete siamo qua al negozio perché oggi come vi ho già detto andiamo a trinciare ma stavolta non ho voglia di usare la clone ma allora vai su il mod ma usiamo questa qua agro ti vanno allora andiamo con questa bestia qua oggi allora buono prendiamo questa si ragazzi quelli lasciamoli parlare per conto loro allora se si attacca la barra magari no agro impedito e infatti c'è agro lì ragazzi questa sarà una lunga serata agro i suoi video strani no grazie no grazie ragazzi ma li sentite con che gente che registro no grazie no grazie ovviamente marco ha la ventimega tarocca però è ventimega è tarocca ha detto quindi ragazzi ragazzi ve l'ho detto che abbiamo cominciato bene basta ragazzi ecco voi venne state di là e io parto di qua tiè no il primo che mi tocca viene bannato ragazzi no perché ho cambiato mezzo ragazzi 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 io faccio il taglio vediamo di recuperare almeno una persona dico almeno una persona ecco ecco sei fortunato se non eri già fuori allora ragazzi abbiamo recuperato queste due scan fatiche qua e adesso possiamo cominciare allora no ho sbagliato tasto vabbè ok e che è che mi spinge eh eh mi hai spinto agro appunto eh che mi sono ma non è vero ah dai agro muoviti comunque ragazzi è la seconda volta che stiamo registrando questo episodio perchè ci sono stati problemi tecnici ma mi era molto più bello in realtà no si si appunto niente in confronto ad agrofarmer trattino mona che oggi ha tolto il suo trattino mona però lui è lo stesso perchè mi dimenticavi di metterlo prima ti dimenticavi di toglierlo adesso ti dimentichi di metterlo cos'è sta storia aspetta agro vendrio allora 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 si si trincia tutto non si lascia indietro niente qua eh se però c'è un mona dietro di me che mi fa andare di traverso anche che mi spinge eccolo qua eccolo qua agro si si agro se continui a spingermi ti caccio fuori si si agro si agro si eh si buonanotte agro vendrio agro vendrio agro eh ragazzi non ce la possiamo fare qua ma ecco mettiti di fianco che è meglio hociola all'albero però eh cazzo è pieno sto monaco è pieno non se ne accorge neanche si lasciate lo spazio per fare le manovre e si questo mi spinge allora una volta che non spinge allora ragazzi non ce l'ho ma io dai ragazzi è la seconda volta che lo stiamo registrando come ho già detto perché l'abbiamo già registrata qualche giorno fa questa puntata ma non si sa per quale motivo ci saranno gli alieni da qualche parte mi si è rovinata la registrazione e i video si erano rovinati allora la sto rifacendo ecco agro non far come l'altro giorno che eri lento più di una lumaca quindi non è quella scusa agro non è la scusa del rallato ragazzi adesso agro trova la scusa eccolo qua tipo che sei un mona che lo si sapeva bello 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 ragazzi agro farmer trottino mona fa la gara abbiamo scoperto vai avanti già guarda vai avanti come scendere andare avanti non lo sai che io non sono sceso bello ah che ti baga qualcuno può venire a liberarvi sei un po' fluido vabbè vi prenderò il bagno bambino non le vado non le vado ma non le vado ma non le vado ma non le vado ma non le vado vado si vedo dall'inspector Sì, molto Guarda questo che mi passa attraverso il cartello Sì, ho visto il rimorchio che attraversava il cartello Loll, pieno Dai, vien sotto a te Sta di fianco, ti È un attimo, è un attimo Vabbè ragazzi, visto che abbiamo già fatto due carte Quindi abbiamo la speed farming Quindi sì, lato ne facciamo A proposito, qua abbiamo, non so, roba tipo legni Non ci ha seminato sto pezzettino qua Mistero Quindi facciamo meno di sto pezzettino qua Ecco, tutta colpa di Ego Dai Allora, dai ragazzi No Vabbè ragazzi, è terza volta che ci provo A finire sto pezzo di video Noi andiamo un po' avanti Ci troviamo un po' Bene ragazzi, allora Abbiamo finito il campo 19 Adesso siamo qua al 20 Intanto qua c'è Agro che sta andando dritto verso un palo Ecco, Agro va dritto verso un palo Abbiamo fatto cambio perché lui non è capace di guidare sto bestione qua Ecco, e trinciare è ancora peggio ragazzi Guardatelo, guardatelo, guardatelo Comunque 98, 99, 100 Pieno Eccola Adesso mi devo farla Allora Vabbè, qua facciamo un po' Un po' più reale sto testando Sennò se faccio la retro fino a là ci metto due anni Adesso sto anche laggando Comunque abbiamo fatto fuori completamente questo campo Più o meno Completamente Infatti si vede che un pezzo l'ha fatto Agro Infatti c'è pezzo indietro ovunque Però lo specialista sei te di questo Agro Eh, te da quanto so fischi molto Sì, grazie Agro della dimostrazione Eh, è dritta Mamma mia, se fa driftare sto rimorchio Sentite sto qua Agro Meglio che ne lasci perdere Oh, c'è Oh, c'è Ragazzi un applauso per Per Agro Allora Allora Eccolo, sentitelo Siamo a 80% qua della prima vasca In più hanno scaricato già un po' anche nell'altra Non si sa chi Ha avuto la brillante idea Di fare sta cosa Quindi è stato Agro Ancora Ancora Agro Basta Abbiamo capito che vuoi un applauso Basta No, io voglio Sì, è un applauso Quello lo voglio anch'io Ecco, quindi ha grossi attacchi Guarda quello lì che taglia Non si taglia Sì, è erbo Guarda che nella realtà taglia per i campi Amore Non crede Mmm È arrivato Sì, è arrivato Sì, quando sono in campo Da arrivare alla strada Sì Sì, il campo è arrivato alla strada Sì, ma non tagliano per i campi Per arrivare al BGA Eh, sì Ragazzi, io adesso cambio il carro qua Perché Sì Vanno a prendere Agro trattino Mona E lo buttano giù in corsa Dal trattore No, vanno a prendere la trattina montana Poi riguardo Ovviamente Agro sta sparando Più cazzate del normale Perché già di norma Spara tanto di quelle cazzate Che la metà bastano Sì, guarda, la metà bastano Di quelle che spari Allora, qua abbiamo il nostro maio Direi che facciamo cambio di carro Che è anche più capiente Questo qua No, tengo il fan Cambio il carro Sicuro che è più capiente? Sì, il crampi tiene di più Della brava Ok, mi chiedisco La natura del primo pezzo è finita Allora Eh, sì, ciao Eh, albero Mi chiedete Adesso per attimo Vabbiamo un altro frattino Aspetta, quanto c'hai? Nonostante presti che ti rienti Allora Buono, a posto Beh, quello è di scorta Adesso si serve Vediamo Eh, tra pochissimo Comunque, agro sto ancora registrando Ah, cofio, scusate Mi sono male che l'hanno tirato Le mie solite bestie Simo, sei pieno Eh, che cosa Sto cavolo di Cos'è? Eh, guarda qua Che arriva subito dietro Eh, guarda Quell'altro Sempre in mezzo a te Questo affare rosso Guarda 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 Oh, la fila Allora Vediamo Sì, però Adesso mi sta Lappiando un botto A parte che Sono spenti I lampeggianti Dov'è che li vedi Accesi I lampeggianti di agro? Ehm Bello Sì, dentro la trincia vabbè ragazzi allora a parte sti casin qua per noi non c'è una seconda allora avrò ero allora vi invito a lasciare un like commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per solita macchinetta adesso parte e ci troviamo in un ragazzi aspetta allora ragazzi vi invito a lasciare un like e commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto noi ci vediamo in un prossimo video se questo qua sta zitto e come finale direi di fare così ecco noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti alla prossima ciao ciao